Buonasera a tutti, giustamente e buona cena a tutti. Voi giustamente vi state dicendo, o vi direte, ma come mai il grande maestro ha il cappello di Natale? Perché? Ma dai! Per me è sempre Natale, certamente oggi, stasera, ma dai! Ma mamma, mamma, hasta mamma! Perché quando a me è Natale, da oggi voi mi dovete il cappello di Natale, ma dai! Voi vi pensate che Natale non arriva tutto facilmente? Siamo a marzo. Voi dite, va bene, ma siamo a marzo, Natale è stupido. Eh, se non ci facciamo caso Natale non arriva. Ma se ci facciamo caso Natale arriva. Io sono Natale. Ma oggi, oggi, stasera, ma dai! Stasera, stasera, ci mangiamo come cena. Ma dai! Guardate, Maria, guardate. Voi questo qua non sapete che cos'è. Lo faccio vedere io dopo. E questo qua sapete che cos'è. Questo prosciutto cotto alto adige di collina. Alla doc. E queste qui sono le olive. Snocciolate, giustamente, perché se c'è il buco qua. Tutti in the tank che si spacca. E questo qui, sapete che cos'è? Ve lo faccio vedere ora che cos'è. Guardate. Questo è un controfiletto di tonno alla Jock. Alla Superdome, perché è un tonno. Vado a vedere, perché se non è il tonno, lui per fare la figura di cacca, mi vado a assicurare. Io lo penso che tenga la confezione. Vado a vedere se è un tonno. Un minuto. Vediamo se il maestro si sbaglia. Perché giustamente, ovviamente, modestamente, come sbaglia il prete, al dire la messa è sbagliata, così il maestro può sbagliare anche lui nei suoi video. Niente, ho sbagliato e vi chiedo scusa. questo, praticamente, è calpaccio di pesce spada a naturale. Perché, sicuramente, il tonno è rosso, ma il pesce spada è bianco. Guardate. questo è un calpaccio di pesce spada. E, sicuramente, visto che ho sbagliato, voglio riparare lo sbaglio. invece di bello del mio calice di santo, ma lo bevo, sicuramente, nel muto. Perché, sicuramente, quando uno sbaglia, devi anche, sicuramente, riparare lo sbaglio. ma dai immuto 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 ti voglio più presto ciucciare il fratello oggi ha preso stamattina ha preso gualtieri serie oro se tu la vedete cosa qui è un lambrusco secco però qui dice bussiamara ma ci non me la frega a me bussiamara ma io non lo so mio fratello si sbaglia sempre vabbè mio fratello si sbaglia sempre e non va bene cioè io non so più come comportare con mio fratello vediamo se questo qua è buono ma dai l'odore sembra buono strappato e bevuto buono un minuto vuoi fare bene il fastoletto la forchetta ovviamente non voglio mangiare con le mani ecco la forchetta la forchetta dove sta eccola qua eccola qua ecco la qua è buono stella una buono ragazzi vi volevo dare una confessione quando prima ho detto che il prete sbaglia la messa anche il maestro sbaglia nel video perché tutti sbagliamo si è spaccato un bicchino la rete, ma dai, ma c'è la rete, ma non c'è la michetta questo è il tuo bicchetto, a me dei delicati che come prendono un colpo si spaccano mamma mia, che lo sai da mio padre? ma dai, questo è il terzo bicchiere che ho spaccato se mia madre ora stava bene, mi mandava a quel paese, vabbè, ma non ci pensiamo, dai madonna me, olive in acqua, sgusciate senza nocciolo perché questo è un crudo e mangiato, perché il cotto l'abbiamo fatto, ora facciamo il crudo e mangiato senza nocciolo, crudo e mangiato madonna è madonna ragazzi quando è fame è fame quando estite esite esattamente bevendo un bicchiere così spaccato posso fare pure così ma sta male ora ho fatto a culo di prigio ma lei ragazzi scusatevi perché se questo qui lo facevo proprio alla doc 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 mi volava il cappello gli occhiali e scafolava tutto qua l'oliva è solitamente buona alla doc ma è un saluto sempre a Tony grandissimo Tony e Valentina alla doc assolutamente poi salutiamo il carissimo Giuseppe Solimena Anna alla doc perché sicuramente la moglie bisogna salutare anche la moglie di Solimena e la figlia di Acerè alla doc e poi un saluto speciale sempre sempre perché da ogni poi ci sono sempre queste persone poi chi lo sa chi lo sa chi lo sa come di non passi vediamo le chiatine Filomenia fa la ok vediamo le chiatine avete visto ovviamente un saluto speciale grandissimo a Piero Orlando e la grandissima Sara alla doc perché giustamente io queste persone li devo sempre salutare poi l'ho detto e vi ripeto saluterò altre persone come la bellissima Claudia alla doc e la mamma Teresa e la bellissima Antonella giustamente giustamente è il mio grandissimo manager alla doc Alessandro super mamma perché non ci devo essere più ovviamente perché ovviamente come dice il maestro io saluto sì saluto io posso salutare chi voglio e basta ma dai questo è pesce spada alla doc crudo e mangiato vediamo trappaccio di pesce spada naturale ragazzi che cena questa è la cena alla don mamma mamma ha saluto e mangiato rei questo cappè che mi sono messo io rappresenta Natale perché Natale si avvicina veloce Natale con me si avvicina a mamma ecco si avvicina se noi non ci pensiamo Natale viene veloce perché quest'anno quest'anno a parte che quest'anno mi devo divertire alla doc come voi vi dovete divertire con me alla doc quest'anno a Natale vi regalerò talmente un sorriso e un'allegria che non ve lo dimenticate per tutta la vostra vita perché quando il maestro promette le mantiene le promesse giustamente e la promessa del maestro è sempre la numero uno ma dai giustamente si ha rotto il bicchiere e io il vino lo volevo prendere nel bicchiere di vetro e purtroppo nel momento di fare così si è sbaccato guardate 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 il manico nel bicchiere guardate guardate il bicchiere guardate come faccio quelle sono le bestemme delle persone le persone che sono invidiose perché più sono indigliose le persone di me e più il cari maestro andrà avanti perciò ci ha fatto a cui di prezio me non manca questo è l'imbuto io vi auguro una buona serata a tutti ma giustamente chi è che non augura inaugura una buona serata a tutti nessuno io vi auguro una buona serata a tutti amici amiche signori signore ragazzi ragazzi ragazze fratelli sorelle amici cioè no scusate nemici perché nemici ci sono nemici che commentano in maniera giusta ci sono nemici e amici perché da amico a nemico cambia perché c'è l'amico che è amico il nemico che si chiede di essere un nemico e poi da dietro deve parlare tutto il nemico non va bene perché la privacy l'ho detto prima chi sbaglia paga e giustamente ovviamente m'ho fatto ci facevamo un brindisi per tutti quanti non per i nemici perché per i nemici per me è un'offesa per tutti quanti fratelli sorelle signore signore ragazzi ragazze amici amiche nemici baga un saluto speciale grandissimo sempre è il manager Alessandro perché Alessandro come ve l'ho detto io è il numero uno buona serata a tutti buona serata a tutti questo questo è per le persone che mi invighiano perché più mi invighieranno le persone e più li farò invighare ma